Situato nel cuore dell'Abruzzo, in una suggestiva cornice paesaggistica, Navelli, borgo famoso per la sua piana e territorio rinomato per la produzione dello zafferrano dell'Aquila DOP, è uno dei comuni che rientra nella nona edizione del concorso nazionale Il Borgo dei Borghi 2021-2022. Navelli partecipa in rappresentanza della regione Abruzzo che ospiterà la 14esima edizione del Festival Nazionale dei Borghi più belli d'Italia nel mese di settembre. Navelli ha tutte le carte in regola per rappresentare le bellezze dell'Abruzzo e puntare a fare il miglior risultato possibile. Il Borgo dei Borghi 2021-2022. Navelli partecipa in rappresentare le bellezze dell'Abruzzo e puntare in rappresentare le bellezze dell'Abruzzo. Il Borgo di Navelli appare all'improvviso adagiato su una collina, con le sue mille finestre che guardano in basso, guardando tranquillo sulla vallata. Navelli era un villaggio di pastori e contadini che si arricchirono grazie al commercio dello zafferano. La storia di Navelli è raccontata attraverso le pietre e le decorazioni che le conferiscono il suo aspetto raffinato. Lavoriamo da anni al riancio di questo borgo, ma non solo di questo borgo, ma di un territorio di riferimento, perché Navelli è un punto di riferimento per l'omonima piana, piana di Navelli, dell'Aguilani in genere, per ovviamente quella che è la cultura di pregio nel nostro territorio, lo zafferano DOP dell'Aquila. Attraverso tutto questo meccanismo, attraverso tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni, fin da quando siamo entrati nel 2007 nell'Associazione dei Borghi più Belle d'Italia, abbiamo sviluppato un percorso e quindi siamo arrivati a partecipare a quella che sarà la gara che ci vedrà, speriamo, protagonisti nel 2022, a diventare il borgo dei borghi, quindi il borgo più bello in assoluto d'Italia. Cosa significa per voi partecipare a una Kermess così importante? Per un paese come Navelli, per un centro come Navelli di 600 anime, io credo che sia una vetrina di livello nazionale, ma io sarei dire anche internazionale, perché peraltro attraverso l'Associazione dei Borghi più Belle d'Italia abbiamo dei riscontri importantissimi anche da oltre Alpi e da oltre Oceano, quindi è un po' la ciliegina sulla torta di tutto quello che in questi anni è stato fatto, con entusiasmo, con voglia di rinascita, con voglia di ripresa, soprattutto per quelle che sono le future generazioni di questo borgo. Rappresentare l'Abruzzo, cosa vuol dire? Beh, lì ci sentiamo un pizzico emozionati, non so se saremo in grado di rappresentare una regione così bella, così stupenda, che è composta da tanti centri piccoli e grandi, uno più bello dell'altro, e chiaramente con molta umiltà, quando siamo stati scelti e ci è stato comunicato che avremmo rappresentato la regione Abruzzo, ci siamo sentiti un po' spaisati, però al momento di sbigottimento poi abbiamo reagito e grazie anche al sostegno che ci viene dalla regione Abruzzo, dal presidente della regione Marco Marsilio, ma dall'Associazione dei Borghi più Belle d'Italia in Abruzzo e Molise, attraverso il suo presidente Antonio Di Marco, credo che questa paura è passata e la stiamo vivendo in modo entusiastico e quindi speriamo di poter rappresentare al meglio una regione così bella, così stupenda, così vivibile a 360 gradi. Non a caso la regione Abruzzo viene portata come esempio come la miglior regione probabilmente non europea ma a livello mondiale di vivibilità e di bellezze, io aggiungerei, quindi ecco ci sentiamo veramente orgogliosi. Nell'ambito delle attività per Natale a Navelli abbiamo quest'oggi una presentazione del libro Quando piove canto più forte di Paolo Fiorucci che è famoso per essere il libraio di notte che ha aperto questa libreria di frontiera proprio a Popoli nell'Abruzzo interno, qui proprio vicino a noi ha anche tenuto il Festival Libri nell'Entroterra a San Benedetto in Perillis e quindi crede molto nella rinascita e nell'importanza dei piccoli paesi di montagna dell'Entroterra Abruzzese. In questi giorni capita anche la rappresentazione di Navelli come Borgo più bello d'Italia per il club appunto dei Borghi più belli d'Italia rappresenta l'Abruzzo in questo concorso il Borgo dei Borghi, è andata in onda proprio ieri sera la puntata speciale e a primavera sarà possibile anche votare per Navelli come Borgo più bello d'Italia. È una grande opportunità perché nel club dei Borghi più belli d'Italia sono presenti appunto i Borghi più belli, i Borghi più rappresentativi, alcuni di questi sono famosissimi in tutto il mondo e quindi Navelli sarà alla loro altezza e grazie anche a prodotti come lo zafferano dell'Aquila Dopp, i ceci rossi e bianchi di Navelli, Presidio Slow Food, abbiamo la possibilità di essere presenti da più punti di vista, quindi dal punto di vista sia dei prodotti della terra, dal punto di vista culturale e soprattutto delle bellezze del paesaggio e architettoniche del nostro borgo. Comunque sicuramente un vanto per Navelli essere arrivati a tanto. Sì, ci fa molto piacere, ci neorgoglisce e ovviamente invitiamo tutti a votare Navelli come il borgo più bello d'Italia per il Borgo dei Borghi. Noi chiaramente non ci fermiamo davanti alle varie problematiche, sappiamo perfettamente quello che stiamo vivendo in questo ormai quasi due anni, da marzo dell'anno scorso, la problematica della pandemia Covid-19 e cerchiamo di reagire e anche quest'anno non abbiamo voluto far mancare qualcosa a questo borgo, quindi Natale a Navelli. Abbiamo sviluppato tutta una serie di idee, di progetti, ovviamente rispettando quelle che sono le normative e le prescrizioni e quella di oggi ad esempio è la presentazione di questo libro di un autore nostrano, diciamo locale, attraverso canti e letture di passi del suo libro e quindi un'ulteriore iniziativa per rendere vivo il borgo. Un'altra iniziativa sganizzata dal Comune di Navelli è la presentazione di un libro. Noi durante l'anno il Comune, Prologo e altre associazioni organizzano queste presentazioni di libro per fare un incontro con le persone del paese, del posto e sempre organizzare qualcosa di bello. In merito invece alla partecipazione ai borghi più belli d'Italia, di Navelli e dell'Abruzzo. È un invito fatto e noi siamo fieri di questo invito e di questa partecipazione a questo programma e a questa gara perché diciamo che Navelli è entrato nei borghi più belli d'Italia già da un po' di anni e ha tutte le caratteristiche per gareggiare e speriamo per vincere. Questa è sicuramente la possibilità che ci dà l'associazione dei borghi più belli d'Italia di metterci in mostra come borgo perché comunque è una rassegna nazionale e quindi dà lustro e possibilità di pubblicità anche per la prossima estate e per il turismo che ci aspettiamo nei prossimi mesi. Sicuramente noi puntiamo molto su questo evento e confidiamo che il popolo abruzzese possa aiutarci in questa avventura e quindi rendere ancora più noto una parte del nostro Abruzzo come sarà per i prossimi anni anche per gli altri borghi di questa regione che parteciperanno a questo evento. Cosa significa per Navelli? Per noi è molto importante perché, ripeto, essendo una vetrina nazionale ci permette di spingere ulteriormente già quello che mostriamo al mondo con per esempio lo Zafferano. Io sono presidente della Fondazione Sarra dedicato a Silvio Salvatore Sarra che è stato il primo che tramite lo sviluppo della cooperativa Alto Piano di Navelli che ha rilanciato lo Zafferano e quindi ha dato nome e lustro a questo luogo e continuare su questa strada anche con la possibilità di mettere in mostra non solo i nostri prodotti tipici ma anche il nostro borgo, i nostri borghi di Navelli e Civitare Tenga sicuramente ci darà possibilità di sviluppo futuro molto importanti. Il nostro corso è stato il corso di Navelli e Civitare Tenga E' pubblicato con Neo Edizioni il libro Quando piove canto più forte, un libro di poesia e polaroid ambientate per la maggior parte nell'entroterra abruzzese, terra in cui vivo e lavoro, vivo a San Benedetto in Perillis e lavoro in una piccola libreria indipendente di popoli, il Libreio di Notte. E sto girando questi piccoli paesi in un tour che ho chiamato Minimo Tour, che ha toccato dei centri come Gagliano Aterno, San Benedetto in Perillis, Rocca Casale, che non sono grandissimi insomma, e oggi sono qui a Navelli a portare il libro e lo spettacolo a esso correlato. Nello specifico parliamo di questo libro, cosa possiamo dire nel merito? E' un'autobiografia in versi e polaroid degli ultimi miei due anni di vita. Partiamo dalla mia infanzia nella periferia acceiosa del Chietino fino ad arrivare al punto di svolta nella mia vita finora che è stata l'apertura della libreria indipendente, il Libreio di Notte, e la scoperta di questa entroterra in cui mi sono sentito così tanto a casa, tanto da voler abitare qui e portare in giro i miei eventi, creare un festival, Libri nell'entroterra, per portare gente qui dalla costa e dalle città. Certe sere, da lontano, il paese sembra un mazzetto di fiammiferi tenuti stretti in un pugno di case benedette da un silenzio antico, dove la terra trema e spaventa. Siamo in salvo, io e te, per questa notte a riparo da tutta quella storia delle cose che finiscono e presto, come il basilico sul tuo balcone. Nascere è un miracolo troppo trevo. Il libro comincia direttamente dalle poesie, quindi lo dedico alle persone che vivono in queste terre, per citare il poeta Clemente Di Leo. Questa è la contea dei Ginepri, ma devi spaccare la scorza delle querce con un pugno, tanto è la forza per poterci vivere. Libertà l'ho vista, dormire nei campi coltivati, a cielo e denaro, e cielo ed amore protetta da un filo spinato. Libertà l'ho vista svegliarsi ogni volta che ho suonato, per un fruscio di ragazze a un ballo, per un compagno ubriaco.